Questa volta non è arrivato il pareggio in extremis e rincorso dalla Pistoiese contro un Siena che passa al Melani per 2 a 1. Si interrompe la striscia positiva della squadra di Mistera Indiani che è caduta contro i bianconeri, avversari che hanno dominato per tutto il primo tempo e hanno saputo gestire il vantaggio nel secondo, nonostante gli arancioni abbiano accorciato le distanze, ma la superiorità degli ospiti ha avuto la meglio. Il Siena attacca fin dai primi minuti, costringe i padroni di casa a restare nella propria metà campo, tanto pressing bianconero, alcune occasioni con Bulevardi e al 41esimo ecco il vantaggio della Robur. Campagnacci servito da Rondanini all'interno dell'area di rigore si gira e il suo diagonale trafigge Biagini ed è 1-0, meritato visti i primi 45 minuti di marca, solo bianconera. La Pistoiese soffre, Indiani nella ripresa pensa subito ad un cambio, inserisce Vrioni al posto di Tartaglione, un cambiamento tattico che non preoccupa la squadra di Mignani, che dopo appena due minuti raddoppia con la rete di Guberti, 2-0. Quello che la Pistoiese perde nel gioco lo acquista però in cuore e sembra non essersi arresa. Approfitta anche di un leve calo dall'altra parte e al decimo del secondo tempo punizione di Zappa, pane non trattiene e Ferrari è pronto a mettere dentro la palla del 2-1. Al 58esimo un miracolo del portiere bianconero nega il gol del pari a Regoli. Il momento, sì, di Amlili e compagni dura poco perché è il Siena che torna a far paura dalle parti di Biagini, chiamato a sostituire Zaccagno fra i pali. Due conclusioni insidiose di Campagnacci e di Emma Usso che non sfrutta dovere, un bel regalo del portiere. Ormai i giochi sembrano fatti, la Pistoiese cede il passo e il Siena controlla e si prende i tre punti in palio. I senesi si sono dimostrati superiori, sono la seconda forza del girone e si è visto troppo deboli i tentativi degli Arancioni che inciampano nella terza sconfitta stagionale.